Saranno ospitati in questo centro di accoglienza straordinario la maggior parte dei migranti fatti scendere la notte scorsa dalla Diciotti. È il centro di accoglienza mondo migliore messo a disposizione dalla Chiesa per i 108 migranti che resteranno in Italia. Qui impareranno la nostra lingua e inizieranno un percorso di integrazione. Poi divisi per famiglie e piccoli gruppi saranno distribuiti tra le diverse diocesi che hanno già dato la loro disponibilità all'accoglienza come quella di Bologna, Ascoli Piceno e alcune parrocchie siciliane. Gli altri, 40 in tutto, andranno in Albania e in Irlanda. E questo è il risultato dell'accordo che ha permesso di sbloccare lo stallo della Diciotti da 5 giorni ferma nel porto di Catania in balia di un braccio di ferro tra Viminale e Unione Europea. Un tiro e molla che di fatto non ha visto nessun vincitore. È ovvio che stiamo parlando di una soluzione che è legata all'emergenza. Una soluzione che di fronte al no dell'Europa e al braccio di ferro che il ministro ha tenuto su questa questione era l'unica che noi siamo riusciti a indigluare. Rimane la vera partita da giocare che è una partita culturale, una partita politica. Perché non possiamo semplicemente affrontare il tema dei migranti, il tema di questo esodo di popoli con delle soluzioni emergenziali. Ad oggi sono 26.000 i profughi accolti dalla Chiesa. Per i 143 della Diciotti ospitati momentaneamente nell'hot spot di Messina, non resta che aspettare ancora qualche giorno prima di sapere quale sarà la loro meta finale.